raga juve milan confuse gamer si parte ma ragazzi forza juve andrea ti prego non abbracciare non pareggiate guardami fortuna e ho già parte carico il milan o brahima oddio che saccagnata che ha tirato abbiamo rischiato raga porca miseria che saccagnata questa è gol andrea gol di delict guarda 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 non è vero che giorgio no quest'anno che linda guarda nera solo giorgio guarda lì non aveva troppo avanti questa mamma mia ma donna ma donna attora media dotto il pallone da perché era in porta questo era un tiro aveva tolto proprio bravo alexandro bravo delict delict è in giornata la carrozzeria in ordine cesni che cazzo fa tira modo che c'è ma c'è ma che cazzo fa cesni da ora scesi che cazzo fa la messina ha visto che cazzo come cazzo c'è ma c'è ma c'è ma c'è ma cazzo e ci è stato sfortunato però anche non la poteva prendere da dire non la poteva prendere il portiere ma manco c'è una spinta se si è concentrato più su quello che stava tirando e andando verso dietro il bra lo copriva e l'ha un po ostruito però è stata velocissima nella contro della compagnia c'era finisce qua primo tempo ma raga 1 a 0 ci siamo fatti fregare nel recupero ok se posso dire ci può stare questo risultato ma secondo me ci stava anche lo 0 a 0 sì sì però ci può stare dai livelli treggiando un po di più nel finale in milano c'è fino a quello sì quello sì però vediamo nel secondo tempo se ci riprendiamo rega mi chiamo bene tocca proprio braccio no si riparte col secondo tempo ragazzi dai 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 forza 1 forza 2 ancora in faccia preso dai e stanno due ragione sul pacco era così ma vabbè facciamo di fare quello che vogliono calma sono andando a vedere vediamo è ora ma questo cazzo è larga il saccio largo e è largissimo rigore netto ma non c'è bisogno neanche del bar fischia ricorda ma non ci bisogna anche che fa il bar rigore andrea cioè no è bloccati ma ricorda ma non c'è bisogno non mi cazzo neanche che era scomposto raga diventa ridere dai ma come cazzo fai ma come fai sbagliato andiamo andiamo quando ricordo che si non ha mai sbagliato rigore ma dai cazzo ci siamo andatevi una sveglia cazzo che state dormendo santo dio state dormendo sveglia stanno a dormire stanno non lo so mi dà una sensazione strana eccolo madonna fa lì domani i cambi fa lì domani aspetta un altro po' dai grande personità del milan è dopo ragazzi ma di pala era da far entrare un quarto d'ora fa di pala dai dai ragazzi dopo che sbagliare il cuore fa entrare di pala c'è io non lo so infatti doveva far entrare un 65 ragazzi ma cosa stiamo facendo ma di cosa stiamo parlando stiamo giocando di merda ci stava al cambio questo tutto da solo la piazza perché la piazzata ha fatto un volasso boh vergognosi vergognosi ma no l'incrocio preciso questo è il mio giocatore di fifa preferito cazzo vergognatevi vergogna 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 3 a 0 esagerato però la vittoria del milan è meritatissima non deve dire ma stai zitto va mavi dai allora prossima faresti complimenti a sto milan o faresti più no disprezzamenti complimenti ma io non ce la faccio a vedere la juve così no no non ce la faccio peggiori in campo non c'è un peggiori in campo tutti peggiori in campo a me i più non si può dire mi sento di alloggiare i delicti alexandro gli altri tutti da rivedervi che schifo ve lo giuro quindi anche ronaldo cosa faresti? andre tutti porco cane l'anno prossima cosa faresti sono serio? no io dico sta partita l'anno prossimo si vedrà mi ha detto il milan che è mancato la juve cosa ha avuto? orco 2 dai seriamente ragazzi ci vediamo penso a juve e inter ci vediamo in europa league bella raga grazie